Buon venerdì 5 marzo. Stretta è la porta che porta alla vita, che porta alla generatività nella bellezza, nell'amore, nell'uguaglianza. Largo invece il passaggio che porta alla perdizione, che dà frutti apparentemente sedutivamente gradevoli, ma che al proprio interno contiene il male, la disuguaglianza, il profitto anziché l'amore. La tentazione è molto grande per ciascuno di noi e noi siamo alberi che potenzialmente possono generare il bene e il male. L'invito è quello a riconoscere i frutti buoni da quelli cattivi. La nostra responsabilità generativa, alberi che nel grande frutteto della vita vanno tagliati se danno frutti cattivi. Dobbiamo avere questo coraggio trasformativo e coltivati con perseveranza se danno frutti buoni, ma la bontà del frutto è rappresentata prima di tutto dalla nostra disponibilità a essere soggetti che accolgono la vita e accolgono il messaggio d'amore e lo pongono a fondamento della propria esistenza. Buona giornata a tutti.